Qualità e Qualità E' un grande piacere essere qua a rappresentare l'azienda Pernigotti, abbiamo l'onore di essere premiati con diverse categorie e diversi prodotti, la crema Pernigotti, quindi la nostra crema Gianduia, i succhi di frutta che sono spremute fresche e naturali a marchio Zumosol e il nuovo gelato confezionato che abbiamo lanciato quest'anno. Il tema conduttore dei nostri nuovi lanci, dei nostri nuovi prodotti è la naturalità e quindi un approccio di alta qualità in tante categorie. Questo è un po' il tratto distintivo dell'offerta Pernigotti e quello che credo abbiano riconosciuto i consumatori di cui andiamo molto fieri. Grazie. 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 Grazie.